C'è qualcosa da salvare in questa partita? C'è un po' teso, agitato, ci teneva particolarmente, bisogna avere anche l'abitudine a vivere dei momenti, la squadra ci ha provato fino alla fine, poi non lo so cosa intende lei per salvare, avremmo potuto trovare anche lo spunto importante, qualcosa abbiamo costruito di fronte poi a un secondo tempo in cui comunque la Lucchese si è chiusa a piccio. Sterla Carabbi oggi ha ricaricato a grandi linee, credo, quelle giornate precedenti, una squadra che oggi ha subito quasi niente però ha costruito molto molto poco. Abbiamo creato 4-5 occasioni in cui potevamo anche sbloccarla la partita, è che maldestramente abbiamo sbagliato le scelte, per quanto viene abbiamo creato uno importante, ma anche dopo. Sì, questo è vero, non siamo riusciti ad essere lucidi negli ultimi 20 metri, però la squadra ha dato tutto, ha pressato, ha chiuso, ha continuato a giocare sui ritmi, ci ha provato in tutti i modi, ripeto, io non ho nulla da dire, neanche mi lamento, perché faccio una premessa, i tifosi hanno ragione, ma è normale che i tifosi vogliono soltanto vedere applaudire la propria squadra, noi questi applausi non ce li siamo meritati, per cui è normale che ci sia dissenso, è normale che ci sia delusione, è normale che ci sia anche reazione da parte dei tifosi. Noi questo lo dobbiamo tenere a mente, però bisogna sempre mantenere la lucidità, in alcuni momenti questo non l'abbiamo fatto, però la squadra ha dato tutto, veramente tutto, ma chi ha giocato, chi è subentrato dopo? Faccio un'altra domanda, lì parla la prima di lucidità e anche del nervosismo, il finale di partita, quello che si è visto alla fine, sinceramente è stato di poco indecoroso? Sì, sbagliamo, perché Rizzo ha commesso un errore, però al fischio finale un giocatore l'ora ha dato una gomitata che nessuno ha visto, poi c'è stato l'episodio, anche questo anomalo, perché non è la normalità, l'arbitro ha concesso calcio di rigore, il quarto uomo non l'ha dato, che era a 50 metri dall'azione, l'arbitro era vicino, l'arbitro ha concesso calcio di rigore, poi qualcuno gli ha fatto cambiare idea, anche questo ci succede, io non è che mi voglio lamentare, non ha senso, però è un episodio che è così, certo che dopo Rizzo non deve fare, deve rimanere lucido, non si deve fare prendere dalla nevrosi, ha fatto poi un gesto più plateale che formale, non ha dato né un cazzotto né una gomitata, ha dato una spinta, ha fatto una rincorsa, allora siccome c'è un po' di tensione, anche chi arbitra dovrebbe avere un po' più di equilibrio, insomma è passare meno, io non mi aspetto tre giornate di squalifica a Rizzo, perché poi si scrivono condotta violenta, fine gara, ma non è così, è stato più un fallo formale, più una cosa formale, più una reazione formale che materiale, materiale era gomitata la presa Ferrari alla fine, ma non serviva, l'arbitro aveva già fiscato la fine, però lì quattro persone nessuno ha visto, ma non è, lo dico, perché lei mi ha fatto la domanda, non ha influito sul risultato sicuramente. Io faccio fatica a capire quando lei dice che abbiamo creato 4-5 occasioni, cioè il pescavano ha mai tirato un po', l'unica attira, fa il primo tiro Ferrari dopo un minuto, dopo più, e il colpo di testo di pesante, per il resto è nulla cosico, io credo che anche queste analisi a fine partita poi creino un po' di problemi con la tifoseria. No, ma ha tirato anche Dursi, siamo stati pericolosi, abbiamo messo tanta pressione, l'ho detto, ci è mancato l'ultima scelta, l'ultimo controllo, l'essere risoluti, a volte abbiamo tirato in un modo troppo precipitoso, però io ho detto prima che ci abbiamo messo una grande pressione, la squadra ci ha provato in tutti i modi a sbloccarla la partita, senza praticamente mai rischiare, insomma abbiamo costretto una buona squadra come la Lucchese, poi sempre alla difensiva, guardate che non è semplice poi creare 20 balle e gol quando le partite sono così sul filo dell'equilibrio, e quando trovi una squadra chiusa, di sicuro non siamo stati bravi, ma questo tipo di difficoltà non li abbiamo solo noi, se avessimo sbloccato poi sarebbe stata un'altra partita, io però ripeto, non ho nulla da dire alla squadra, chi ha giocato, chi è subentrato, hanno dato tutto, è chiaro che c'è un po' di tensione a cui qualcuno è un po' più abituato, e a qualcuno o meno, ma cosa facciamo? Vanno soltanto tranquillizzati ed elogiati per l'impegno, poi è chiaro che dobbiamo migliorare dal punto di vista della qualità. Ci sarà l'area con la sede, un banchino? Non lo so, ma lei lo chiede a me, non lo so, io non lavoro, oggi abbiamo fatto delle scelte, ritornando a fare alcune cose, io non ho paura di nulla, ho scelto dei ragazzi e hanno fatto bene, sono contento perché hanno qualità, ma io non ho mai abbandonato nessuno, quindi anche chi non è stato scelto fa parte del contesto, ma si è visto anche chi è entrato, come è entrato, Ferrari aveva qualche problema, Rauti l'ho sostituito perché nel riscaldamento, tirando in porta, è rientrato negli spogliatori con un po' di fastidio all'adduttore, per cui se l'è sentita però poi non era sicuro, quindi ecco il motivo per cui l'ho sostituito. Ma ripartiamo dall'atteggiamento, poi è chiaro che ci dobbiamo migliorare. Guardi, le scelte iniziali sono state figlie sempre della settimana di lavoro, Ferrari è un giocatore che io avevo intenzione di impiegare, però fino a giovedì praticamente si era allenato in disparte, quasi poco e nulla, e quindi le scelte iniziali sono state quelle, ma io ripeto, della partita che ha fatto Chiarella, della partita che ha fatto Ferro, della partita che ha fatto Rao, della partita che ha fatto Dursi, secondo me siamo anche partiti bene i primi 20 minuti, aggredendo bene, e mettendoli lì, sì, commettendo qualche errore, poi è chiaro che più aumentavano i minuti della partita, e più loro avevano questo atteggiamento chiuso, è chiaro che poteva servire anche il gol sporco, ecco perché l'ingresso di Ferrari, soprattutto perché Rao poteva avere il problema, ma a me la squadra non è dispiaciuta né dal punto di vista dell'ordine tattico, e neanche dal punto di vista dell'intensità e della pressione e dell'atteggiamento che abbiamo avuto. Poi è chiaro che non ci abbiamo messo la qualità sufficiente per determinare, per determinare l'ultimo passaggio, per determinare la scelta ottimale, questo è vero, però non credo che siamo in confusione, questo no, perché voglio dire, se noi partite... Ma la paura sì, ma guardate, ho parlato prima di Pompetti, grande volontà, grande motivazione, grande voglia, però poi alla fine, come ha detto lei, un po' timidino nel fare la giocata, per cui alla fine nel primo tempo l'ho dovuto tranquillizzare, dicendo, ma pensa a giocare a calcio, perché sai giocare a calcio, infatti nel secondo tempo è cresciuto, ha alzato anche il movimento in mezzo al campo, ha giocato molti più palloni, l'ho fatto con Pompetti che conosciamo, sì, è normale che quando ci sono delle negatività e poi c'è una tifoseria che contesta, è normale che il giocatore possa, in qualche modo, chi non è poi soprattutto abituato, ma qua i ragazzi, quelli più giovani, sono sfrontati, hanno personalità, quindi... Ha parlato in questione di Pompetti? No, non l'ho visto, no. Volevo fare la stessa domanda sul periodo d'attacco all'inizio, parlai della scala di Ferrati, perché non ha messo le macchie a questo punto? Perché se lei... Termini, perdono, se lei ci vuole giocare in un certo modo, ha detto lei, poi però mi mette tre piccoli davanti, che noi quando abbiamo letto la formazione pensano a Muri, a diventare dei ludinesi e dei piccoli, piuttosto che adesso lo faccio un po' per stigmatizzare, Ma ecco, perché a questo punto non ha messo De Marchi? Perché le settimane di lavoro mi orientano a quello, De Marchi, anche lui, è in un momento in cui non sta benissimo, e quindi la scelta iniziale è stata quella, perché poi Rauti era entrato anche bene a Ponte d'Era, soltanto quello, ma io non abbandono nessuno, quindi se voi magari potreste seguire gli allenamenti, cosa che purtroppo non vi è possibile, tante cose le capireste, quindi neanche De Marchi stava benissimo, voglio dire benissimo in grado di fare i 90 minuti come si deve. Grazie. Posto? Riponissimo, riponissimo.